Ambra Angiolini è un'attrice, conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica e cantante italiana. Dopo aver esordito in televisione ancora adolescente in Bugli e Pupe, programma estivo di prima serata come racconta lei stessa in una bellissima intervista a Repubblica, la vera battaglia di Ambra va oltre le luci della ribalta e le storie d'amore finite. È una lotta quotidiana contro la bulimia, una malattia suddola che l'ha accompagnata per anni, lasciando cicatrici invisibili ma profonde alla gente interessava solo che tornassi magra a rivelato. Mentre io stavo facendo i conti con la voragine che avevo dentro, una voragine, questa, che lei stessa descrive come un cancro dell'anima, qualcosa che non si vede ma che consuma dall'interno l'amore a diverse forme, ma rimane sempre l'arma più potente a nostra disposizione. E in questa battaglia è stato proprio l'amore a salvarla, non solo quello per i suoi figli e l'affetto sincero che ancora la lega a Francesco Renga, ma anche quello materno che ha dato luce nei momenti più bui. Nella sua intervista, Ambra ricorda ancora i bigliettini che sua madre lasciava in bagno, ad altezza vomito. Piccoli gesti d'amore che le hanno dato la forza di non arrendersi litigare con se stessi, afferma Ambra, è più facile che litigare con gli altri. Ad oggi la donna ha superato quel brutto periodo, ma non per questo ha smesso di lottare. Continua la sua battaglia a gran voce, raccontando la sua storia filtri e usando la sua voce e la sua visibilità per sensibilizzare e aiutare chi, come lei, affronta una battaglia interiore.